Sì, è stato un anno molto particolare, ovviamente, nel quale i prezzi del grano sono andati alle stelle, però noi cerchiamo di coglierne il lato positivo. Ora, finalmente, grazie al fatto che invece il raccolto si inizia a sbloccare il fisico, quindi si arriverà il grano nuovo raccolto nelle nostre aziende, è estremamente importante. Poi, dall'altra parte, questo livello dei prezzi così alto permette una bella remunerazione, chiaramente, dell'agricoltura, quindi stimolato a coltivare. In Italia ci sono decine e decine, se non centinaia di ettari che sono fermi, che non sono coltivati, che probabilmente abbiamo l'opportunità di coltivare, quindi di inserire in filiera che potrà aumentare il grano coltivato in Italia. Parliamo di centesimi per il pane, centesimi per la pizza, quindi probabilmente il bilancio annuale della mia famiglia non incide in maniera importante, ma lontanamente nemmeno, non so quanto, rispetto a quello che può essere chiaramente l'energia o la bolletta energetica in generale a 360 gradi. Quindi è importante, invece, pensare a cosa mangiamo, la filiera di quello che noi andiamo a mangiare tutti i giorni, sapere da dove proviene il cibo, sapere soprattutto la qualità del cibo che noi mangiamo, penso sia molto importante. Diciamo che una buona pizza parte proprio da una buona farina. Avere un prodotto fatto con grano tracciato, che cresce quasi al chilometro zero, direi che è un plus che si aggiunge al mio prodotto. Allora, io credo, la pizza è quella, ogni pizzicolo ha la sua pizza, io penso che ognuno deve proporre la propria identità di pizza e poi deve essere il cliente che magari apprezza o non apprezza quel prodotto. Io dico che la pizza napoletana è comunque vincente nel mondo, io l'ho vista a Londra, per esempio, ho aperto a Londra, non ho proprio modificato il mio prodotto. All'inizio aveva una clientela prettamente italiana, poi dopo il Covid, insomma, con la Brexit c'è stato un totale cambio. Oggi la clientela è prettamente inglese e sono persone che si sono avvicinate al mio prodotto senza che io l'abbia mai modificato, senza che loro abbiano mai chiesto nulla di diverso da quello che facevo e oggi vengono nella mia pizzeria e mangiano la mia pizza.